Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con il nostro appuntamento settimanale dedicato a Xur, l'agente dei nove, senza perderci in chiacchiere. Per il titano venderà la barriera reazione CD0, ossia il nuovo paio di guanti esotici introdotto con il casato dei lupi. Premetto non ho ancora avuto modo di provarlo, però so dirvi che ha del potenziale, ha del potenziale perché ad esempio nel PvP vi dà un vantaggio quando vi prenderete a pugni con l'avversario perché voi gli farete danno col vostro pugno e lui si farà male colpendovi, quindi banalmente gli farete più danno e ha molta utilità da questo punto di vista. Lo stesso discorso vale anche per il PvE, ad esempio affrontando Crota quando nel labirinto vi darà una mano ad eliminare o comunque a danneggiare, a stunnare, a stagherare, a far inditreggiare, a far barcollare, come cavolo lo volete dire, tutti i nemici, tutti gli schiavi che vi colpiranno e da questo punto di vista è molto utile. Non è uno dei migliori pezzi per il titano per il semplice motivo che per funzionare dovete essere colpiti. E diciamo che a volte è meglio girare d'anticipo e pensare no, magari uso l'armamentarium per avere più granate e per non far avvicinare gli avversari. Quindi sotto questo punto di vista non è uno dei migliori pezzi, però è divertente da utilizzare per uno stile di gioco molto aggressivo e ignorante, va più che bene. Per la classe del cacciatore venderà il pungiglione di Capri, anche qui introdotto con il casato dei lupi, dei guanti esotici. L'effetto è che oltre al fatto che vi farà rendere invisibili quando starete accovacciati, l'effetto che ha la sottoclasse della lama danzante che potrete tranquillamente usare anche con la sottoclasse del pistolero, e presumo che lo si potrà utilizzare anche con la nuova sottoclasse che uscirà con The Taken King, e che oltre ad applicare un dot che farà sui 36 danno quando colpirete con un pugno da invisibili un avversario, vi permetterà di poter assassinare, in parole povere, colpendo alle spalle un nemico da invisibili farete 4 per danno, il danno moltiplicato per 4, ed è un'abilità che vabbè è sciotta nel pvp ed è abbastanza utile anche nel pv per fare danni pesanti a nemici non maggiori ma che comunque possono essere pericolosi, ad esempio i soliti vandali o capitani con la vita rossa, quindi non maggiori appunto ma con lo scudo, con un melee molto forte, e quindi che assassinarli sarà molto utile. Per la classe Stregoni invece vende il protocollo fuoco stellare, petto esotico introdotto con l'oscurità dal profondo, utile con la sottoclasse del Cantorio del Sole perché vi farà avere una granata fusione in più e quindi potrete utilizzare un'altra abilità come ad esempio Angelo di Luce, purtroppo però funziona soltanto con la granata fusione, ottimo per il pvp alla fin fine perché è la granata che si tende a utilizzare maggiormente insieme a quella dardo e averne due disposizioni e poter sfruttare anche Angelo di Luce è un grosso vantaggio, non necessariamente anche qui il migliore pezzo d'armatura però è lo stesso molto valido. L'arma di questa settimana sarà a Dura Luce, arma che con la patch di dicembre è diventata molto buona, ha orato e ha elevato un danno non dei peggiori tutto sommato ed è molto stabile, arma che consiglio a tutti di Airtains da utilizzare, non il top top tipo i cannoni portatili che adesso sono proprio le armi migliori che ci siano per il pvp, lo stesso arma buona. Stesso discorso non vale per il pve, come tutte le armi con l'alto rato e l'impatto piuttosto basso è noioso da utilizzare ed è meglio puntare ai soliti fucili a pompa o armi comunque che fanno danni pesanti. E per concludere l'engramma esotico di questa settimana è per la terza settimana di fila per il torace, come vi ho detto anche le altre volte, volete trovare il nuovo torace per lo stregone? Avete una possibilità su 8, sta a voi vedere se rischiare e sprecare particelle di luce o semplicemente aspettare che lo venda, intanto prima o poi lo venderà. Quindi ragazzi per l'analisi di Xur è tutto, come al solito noi con questo appuntamento ci sentiamo a venerdì prossimo, vi invito a lasciarmi il vostro feedback, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto e noi ci sentiamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!